Ciao a tutti ragazzi, qui Alec, oggi siamo qui per il secondo episodio della sfida di Alec su Clash of Clans. Nell'ultimo episodio avevo detto che la penitenza sarebbe stata il fare un episodio, il prossimo episodio, con un iscritto. All'inizio avevo detto della serie principale, poi nella serie principale mi sono corretto, ho detto è meglio che lo facciamo sulla sfida stessa. E di fatti oggi è con noi Roberto, ciao ragazzi. Roberto e adesso a schermo dovrebbe apparire lo screen del programmino che ho usato per selezionare Roberto tra i commenti. Questo è un programmino che io metto il link del video e in pratica lui mi seleziona un commento a caso. Quindi il fortunato è stato Roberto, io l'ho trovato su Facebook, stavolta è stata semplice, Cioè poteva essere molto più complicato da trovarlo, invece l'ho trovato subito. E adesso è su TeamSpeak con me e la cosa qual è? Che lui ha scelto la sfida che adesso tra un po' vi andrà a descrivere. Ha scelto lui la sfida che dovrò fare e la penitenza l'ho scelta io e non è con il cibo come molti di voi speravano e anche Roberto, ma perché non ho fatto in tempo a preparare qualcosa e voi non mi avete dato i suggerimenti, quindi è colpa anche vostra. Quindi scriveteli nei commenti se volete suggerire per il prossimo episodio, altrimenti faccio io. E la punizione prendo, una punizione che mi ha suggerito sempre Roberto, ma che avevo letto anche che alcuni mi avevano detto nei commenti nello scorso video, quindi la farò, è quella di mettere tutti i depositi, incluso quello di nero, fuori per 24 ore. Voi mi direte, sì ma Alec se non lo fai come faccia? A vedere che l'hai fatto, molto semplicemente manderò, terrò gli screen degli attacchi che mi fanno e ve li farò vedere al prossimo episodio della sfida. Detto questo ragazzi, prima che Roberto ci descrivi la sfida, andiamo a fare un suo base review, una cosa che abbiamo aggiunto perché me l'ha chiesta e ho detto ok, facciamolo, farò anche il suo base review. Ora, io qui in alto a destra sulla i, trovate la i che se l'aprite farò un sondaggio, ditemi se volete la sfida con il cibo oppure sfida con questa tipologia qui. Cioè se vi piace il fatto che io faccio un video con voi e volete che la sfida prosegua in questo senso, votate oppure se volete il cibo, votate il cibo. Quindi mi raccomando ragazzi, votatelo, scrivetelo nei commenti. E tu Roberto cosa preferisci? No, per me è meglio, diciamo, sfide di Clash perché alla fine il cibo tutti quanti lo possono sopportare, però su Clash comunque, in questo caso perdendo le risorse, si perde tempo di gioco e comunque pesa. Allora, ho capito, è onesto Roberto, nel senso che alla fine lui è stato il primo, è stato selezionato, quindi diceva beh, sti cazzi, sta modalità, vada l'affanculo, fai quella del cibo, senza che metti a selezionare qualcun altro, tanto io ho fatta, che mi frega, invece no, ha detto quello che pensavo, ma aspettavo che diceva qualcos'altro. Allora, questo è lui, in game è robo, livello 102, andiamo a fare visit e apriamo il villaggio. Allora, è un TH10 con le mura gran parte al 9, quindi è più o meno con le mura, stai... No, non stai come me ovviamente perché ce l'ho meno a 10. Come? Posso fare un'anteprima. Sì, vai, vai. Ho sempre materiali bassi, ma è sempre stata una mia, diciamo, una mia becca. e adesso le difese sono pari a TH9 perché sono passato più o meno da due settimane, due settimane e mezzo più o meno, a TH10. Ho capito, infatti sì, hai fatto le torri bombardiere, vedo, le stai pure a far salire. Sì, i reali effettivamente sono un po' un po' bassi, io ti consiglio di non salire a TH11 se non c'è almeno al 30. Certo. Quindi concentrate su quelli adesso, come adesso. Le mura stanno bene, nel senso, alla fine se le fai salire già tutte al 9 vanno più che bene perché 10 e 11 sono già a livelli molto alti che rivedono un sacco di risorse. Un'altra cosa che ti di maxa in fretta sono i Torri Inferno che stanno ancora a livello 1. Poi per il resto, bene o male, visto che hai fatto tutte le strutture del TH10 nuove, stai a porta su, vedo il cannone e l'arco X in up, quindi va bene. E vedo che pure il laboratorio sta a lavorare, quindi starei a fare sicuramente le truppe nuove. Sì, niente, no, l'assetto del villaggio mi piace questo così, messo così. Sì, è buono come assetto, mi piace, è bello simmetrico, è a freccia. Se vedi al centro c'è una specie di tunnel canale, troll, pieno di trappole. Io i trappole non le vedo, ma immagino che sia tutto pieno lì nei spazi vuoti. Chi attacca con i giganti per prendere il nero, tutti i giganti girano, vanno lì dentro. Eh sì, effettivamente so, dei bei tunnel larghi laterali, quindi dovunque schiero, a parte dalla parte proprio delle punte, i giganti vanno per forza là e quindi rimangono fregati. E per il nero bisogna per forza andarci vicino, quindi penso che in entrambi i casi vengano fottuti. Eh sì, no, è un bel assetto, è un bel assetto. Grazie. Comunque, detto questo, passiamo alla sfida. Quindi lascio la parola a te e dimmi tu la sfida che dovrò fare. Dilla anche a loro, almeno già me l'ha detta, però la ripeterà per voi. Va bene. Allora ragazzi, oggi ho scelto per Alec un full sgherry più 5 clonazioni e una rapidità. Allora, lui in 8 skip deve prendere almeno 100.000 di oro, 100.000 di alisir e 800 di nero, senza neanche i reali. Senza neanche i reali. Quindi, ovviamente, se prendo anche 200.000 di alisir e 200.000 d'oro, ma non prendo gli 800 di nero, la sfida è persa, perché ovviamente devo rispettare tutte e tre le cose. La full sgherry sarà da 120, io gli sgherry fortunatamente ce li ho al 5, perché a caso li avevo maxati quasi a un episodio, non ricordo nemmeno quale. Le pozioni della clonazione sul canale non le avete mai viste usate, perché non le ho mai usate, in realtà. Quante ne ho fatte? Ne ho fatte due. Perché ce ne ho due meta 8 su 11 spell, what the fuck? Non capisco sta cosa, che cazzo è? Scusa, le spell quanto occupano? Occupano tanto, occupano le spell. Calcola che due spell clonazione, c'ho già 8 su 11. Quindi non ne posso fare quante vuoi. Posso fare la rapidità, la gemmo e a quanto sto? A 9 su 11. Non posso fare un'altra clonazione, sai? L'avevamo pensato. Eh, non... vediamo info? Info sì, housing space 4 occupano, cazzo. E quindi niente, lo faremo con doppia rapidità e doppia clonazione. È l'unica. Doppia rapidità e doppia clonazione. Cambio in corso, come vedete è tutto in live ragazzi, non è niente di preparato, a parte qualcosina, ma come vedete poi al fine delle cose si rendevo conto in live. Ora, gli sgherri hanno finito di fa, penso di no. Le vado a gemma gli ultimi, sì, 14 gemme. Non ce le ho, 14 gemme ce ne ho 10. C'ho qualche ostacolo da togliere, no. Quindi aspettiamo un attimo e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, gemme... Siamo arrivati al punto che potevo gemma. Ho gemmato, quindi ricapitolando, ho 120 sgherri, due pozioni clonazioni, due rapidità, non posso usare i reali e ho 8 skip a disposizione. Ovviamente Roberto non può vedere le mie skip, quindi le vedrà poi nel video. Prima skip, questo c'ha 400.000 di tutto e 3.000 di nero. Il problema è che è un TH10 con le mura tutte al 10, è bello maxato e c'ha gli estrattori scarichi. Quindi, in realtà se prende 100.000 potrei anche a canimme contro due depositi, però mi sa che ce ne vogliono almeno 4 e il nero non sta fuori portata, non fare mai 800 di nero. Questo c'ha i reali al 30, non devo per forza skip a... Primo skip andato, tieni il conto che io mi potrei scordare. Quindi sto al secondo. Questo è un municipio lì all'8 addirittura, però c'ha 35.000 d'oro e 61.000 d'elisir, quindi non ci arrivo proprio nemmeno prendendo tutto. Quindi secondo skip andato. Oh cazzo, questo qui era un TH9 con le mura bassissime, è un villaggio di merda, però c'ha 106.000 d'oro, 106.000 d'elisir, ma c'ha solo 390 di nero, quindi non va bene manco questo. Terzo skip andato, quarto villaggio, bene cosa, bene. E anche questo niente, c'ha 240 di nero, niente, manco questo. Quindi quinto villaggio, e questo c'ha 69.000 d'oro e 92.000 d'elisir e 500 di nero, quindi manco questo. I sessi sono pochi. Eh no, ma mi sta a dir pure male, quello è il problema, porca vizia, non c'hanno proprio risorse questi. Inizialmente avevo messo 10, poi ho detto va bene, dai, 8, facciamo la più difficile. Eh, invece mi sta a dir male, 19.000 d'oro questo c'ha, ma te ne ho in TH10 che ho 19.000 d'oro, ma che cazzo? Quindi il settimo villaggio, questo... questo... questo si può fanno cellare il nero, che cazzo però. Il problema è che sono gli 800 di nero, non li prenderò mai. Non li prenderò mai. Però ci proviamo ragazzi, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo, questo giro ci proviamo perché c'ho solo uno skip e poi se no non vi faccio mai l'attacca, la perdo senza attaccare. E invece a questo giro ci voglio provare, non ho mai usato le spell clonazioni, quindi la prima volta attacchiamo da sto lato e andiamo contro quei depositi. Ah, ma questo c'ha pure... No, 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 devo skippare. C'ha le contraerie altissime, non l'avevo viste. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Ok, dimmi. Se in 8 skip non ce la fai, facciamo 10, perché inizialmente avevo messo 10, va bene? Va bene, allora facciamo 10, su. Tanto non è che cambia molto. Io sto all'ultima skip, questa è l'ottava. Ok. Ok, ok, no, aspetta, aspetta. L'ottava è un municipio livello 8, c'ha 150.000 d'oro, 179.000 d'oro, e 900 di nero. Il problema è che dovrebbe prendere tutto quello che c'ha. Fa 3 stelle con Fulgherry che è un po' improbabile. Con tutto che è un TH8, anche perché con 3 ce l'ha comunque a livello 5. Facciamo 10 skip, ragazzi, datemene altre due bonus. Vediamo un po' se riesco con due bonus. La sfida era abbastanza complicata, sembrava innocua. A me ho detto, vabbè dai, niente di che. Ma il problema è il nero, ragazzi. Il problema è il nero, perché prende 800 di nero. Ok, questo c'ha... Questo forse è fattibile, ragazzi. Questo è fattibile, ce provo qua. Qua ce provo perché il nero forse riesco a prenderlo dai trivelle, l'800 di nero che mi serve. E ha un TH9 con le mura alte, ma sti cazzi, e c'ha le contraeree alte, però ce l'ha posizionata pure abbastanza bene. No, 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 no. E questo sto all'ultimo skip. Sto al 10. Sto al 10, ci devo per forza provare. Cioè, devo per forza provare... E questo è un fail? Eh, no, ma è un fail della madonna pure questo, perché c'ha 120.000 d'oro totale. Ho beccato tutti i villaggi, ragazzi, senza oro. Questo giro ci provo e attacco da sto lato per forza. Per forza, perché c'ha il nero tutto lì. Il nero dovrei riuscirlo a prendere, forse pure l'alysir, ma non riuscirò mai a prendere l'oro. Allora, attacchiamo qua, mettiamo tutti gli sgherri, ok, mettiamo una pozione clonazione, vediamo un po'. Vediamo un po', tutti da sto lato. Sto facendo un fail della madonna. Allora, vai sgherri, vai sgherri, vai sgherri, vai sgherri, vai sgherri. Mazza quanti però, sgherri, oh. Rapidità, rapidità, rapidità. Vediamo un po', vediamo un po', altri sgherri qua. Eh, stanno andando, stanno a prendere, ma a parte che il nero non era quanto pensavo. Facciamo clonazione, vediamo un po', clonazione non avevo mai vista, vedi, li clona, non vedi, addirittura sono arrivati al municipio, sono arrivati al municipio, uh, municipio io ho famo? Uh, abbiamo fatto il municipio, TH10. 39%, quanto io ho preso? Eh, ma è il nero, eh, è il nero, io pensavo che i drivelli erano un po' pieni, invece no, a fine no, ma facevo meglio dall'altro lato, ma sa che arrivavo al deposito. Comunque, quei sgherri sono andati, cazzo, quasi 50%, facevo quasi due stelle, è pochissimo, cazzo. End battle, il re non lo posso usare, ah, cazzo, cazzo, ho preso mille di nero, mica pensavo, ma il bonus conta, manco col bonus, c'è io, ho preso 129.000 dell'isir, quindi l'isir buono, mille di nero buono, ma c'ho 56.000 d'oro, perché c'ho detto, c'aveva 120 d'oro, devo prenderlo tutto, prendere quattro depositi, con tutti i sgherri, era impossibile, calcola che il bonus lega è 10.000, arrivo a 66.000, niente, de poco ragazzi, però, de poco, de poco, de poco, de poco, e vabbè, quindi la sfida ragazzi, la penitenza, l'ho persa la sfida, quindi la penitenza che ve la faccio in live, sposto sti depositi fuori, li butto da sto lato, tanto stanno comunque fuori, belli lontani dalle mura, della serie proprio, venite qua, prendetemi tutto, farò pure dei bei trofei, perché la gente via quello e se ne va, tranquillamente, quindi farò pure dei bei trofei in difesa, e adesso ragazzi, per farmi attaccare, ok, dato che lo scudo mi scade da un'ora, mi farò attaccare per forza di cose e ristrarò inattivo per 24 ore, quindi mi dovrebbero fare due attacchi e questi due attacchi salverò gli screen e ve li farò vedere nel prossimo episodio della sfida. Mi ricordo che se volete una sfida di cibo o una sfida sempre così che la penitenza è quella di fare un video con voi ogni volta cambiate iscritto, c'è sempre il sondaggio qui in alto a destra quella di andate a votare se volete quella del cibo lasciate in descrizione un vostro consiglio altrimenti faccio io se vedo un consiglio originale di qualcosa di fattibile non mi dite di mangiare merda capito? perché se no non riesco io poi non posso fare cose assurde quindi mi raccomando cercare di proporre sfide possibili e quindi niente da Alec è tutto Roberto un saluto a tutti ciao ragazzi è stato un piacere è stato un piacere anche per me spero che insomma il video venga bene ma penso proprio di sì e niente ragazzi da Alec è tutto ci vediamo al prossimo episodio un saluto un saluto